Registro questo breve video per un'esigenza, un'esigenza di carattere divulgativo storico soprattutto per ristabilire la verità dei fatti. La notizia del giorno del 31 marzo 2023 è l'uscita che si poteva tranquillamente risparmiare del Presidente del Senato italiano, il Senatore Ignazio Larussa, intervenendo a trasmissione radiofonica all'interno di un quotidiano, ha detto che l'azione dei gappisti italiani del 23 marzo del 44 in via Rasella a Roma fu rivolta non contro una formazione occupante tedesca ma contro sostanzialmente una banda di musicisti pescionati. Ora, il ruolo di una carica pubblica è quello di essere d'esempio, il Presidente del Senato è la seconda carica della Repubblica Italiana, dopo il Capo dello Stato. Mi dispiace ma non è accettabile che la seconda carica dello Stato dica in pubblico delle bugie. Non voglio scendere nelle motivazioni per cui abbia mentito, ma mi dispiace, Presidente della Russa, quello che ha detto non è vero. Ora, io non lo so se le sue affermazioni siano dettate da questioni politiche o da una scarsa conoscenza dei fatti, però in ogni caso ristabilisco volentieri la verità di quei fatti. Il battaglione Bozen faceva parte dell'Ornungs Polizei, Orpo, in gergo. La polizia d'ordine era un corpo che raggruppava i vigili urbani, i vigili del fuoco, ma anche la bassa manovra alta della polizia, quella a cui veniva chiesto nelle zone occupate di provvedere alla repressione vera e propria. La dimostrazione è che il Bozen aveva due battaglioni gemelli, uno dislocato in Istria, l'altro nel bellunese, che non hanno lasciato dei bei ricordi in quelle due zone, visto che hanno represso in maniera sanguinosa il fenomeno partigiano. I militi del Bozen, impegnati a Roma, non erano degli anziani e non erano neanche dei musicati, erano dei soggetti di polizia operanti per ordine e sotto dei segni di uno stato straniero occupante. Faccio anche notare che l'Orpo, pur non indossando il nero della Gestapo o le divise mimetiche delle Waffen-SS o la Tottenkopf-Ferbande di che operava nei campi di concentramento, era sottoposta alle SS, né più né meno che la Cripo, la Polizia Criminale, e la Gestapo, la Gamme Staff Poliziai. Bene, ci ho detto, Presidente, io non so se vedrà mai questo video o se qualcuno glielo mostrerà, però nel caso in cui dovesse vederlo, mi rivolgo a lei qualità sua di seconda carica dello Stato, la semplice giornalista, con una richiesta, la prego. La cultura in questo paese è importante, la cultura in questo paese dovrebbe essere la prima base. Se la seconda carica dello Stato racconta una bugia o mistifica la storia, la questione diventa molto grave. Quindi, Presidente, la prego, non dica mai più una cosa del genere e se ha occasione, rettifichi. Dica eventualmente che si è sbagliato, dica che non aveva ben capito, che aveva letto frettolosamente, che l'abbiamo informata male. Trovi dai la motivazione, ma non faccia passare un messaggio così errato, che poi è rilanciato dai vari organi di stampa, può arrivare anche le giovani generazioni che possono venire traviate da questo messaggio forbiante. La prego, Presidente della Russa, non lo faccia mai più. Grazie, a nome mio, dei tanti colleghi giornalisti e dei tanti storici che lavorano da tanti, tanti, tanti anni per ricostruire la verità dei fatti.